ciao amici buongiorno ciao aria buongiorno anche a te allora oggi oltre a presentarvi aria per il prossimo gioco vi presento anche una nuova assistente meglio la mia compagna di vita antonella prego accomodati buongiorno buongiorno allora per fare questo gioco che in realtà non è un gioco o meglio è un gioco ma è un gioco spiegato cioè vi spiego come faccio un gioco ora prendiamo un fazzoletto possiamo prendere un tovagliolo qualsiasi cosa l'importante che riuscite a fare una pallina all'interno della vostra mano ora il gioco è questo fate accomodare io ho preso antonella ma voi potete far accomodare vostro fratellino la sorellina o anche un genitore l'importante è che sia seduto e poi vi spieghi il perché ora antonella io dovrò far sparire questa pallina in mezzo alle mie mani e tu dovrai indovinare dove si trova la pallina ok attenzione uno due e tre dov'è la pallina qui si è stata veloce in realtà sono stato lento anch'io ma adesso lo facciamo un pochino più veloce attenzione uno stai dritta stai dritta non ti preoccupare non ti faccio male uno due e tre stavolta sono stato veloce è velocissimo dov'è qui no è sbagliato adesso ancora più veloce attenzione antonella uno due e tre dov'è qui no vedi sparisce o voi che state da quella parte avete visto il trucco e questo è quello che dovete ripetere voi bambini cioè dovete cercare di fare un video ripetendo questo gioco io ve lo ripeto con più calma attenzione quindi prendiamo un tovagliolo un fazzoletto e facciamo una pallina di calica così piccola in modo tale se il tovagliolo è troppo grande prendete un fazzolettino più piccolo in modo tale che rimane nella vostra mano ora attenzione il gioco consiste nel far vedere le prime due volte la pallina e nasconderla è la prima volta la seconda volta potete metterla in qualsiasi altra mano sempre qui sempre qui ma alla terza volta vedete uno due la pallina viene lanciata sopra l'altezza degli occhi in questa maniera lei non vede che io l'ho lanciata la pallina e continuate la vostra azione chiudendo le mani a quel punto lei vi dirà dov'è la pallina qui e la pallina sparisce ok ragazzi allora riuscite a fare un video in questa maniera e lo mandate a questa email andrà tutto bene chiocciolapolizia di stato punto it dovete mandarli cerchiamo di mandarli prima del fine maggio in modo tale che noi riusciamo a vederli riusciamo a giudicarli e sicuramente avrete dei premi ok ciao a tutti ciao